Innanzitutto ringrazio il mister della Lazio Calciotto per le parole che ha espresso sul Cotton Club e faccio i complimenti per una vittoria che è strameritata. Delle ultime tre partite la vittoria con la Golbet è sicuramente la prestazione peggiore ed è la partita che da un punto di vista di gioco espresso più ci ha lasciato perplessi e più ci ha fatto riflettere nel post-gara perché è stata una partita condizionata dalla nostra supponenza, dal fatto che Golbet ha giocato meglio di noi e da un arbitraggio di cui si è già parlato anche con il presidente Cencetti inadeguato da entrambe le parti senza voler favorire l'una o l'altra. Chiudendo il discorso di prima, le due sconfitte sono paradossalmente le partite che ci lasciano più soddisfatti perché la partita con la Roma qui è una partita in cui subiamo un solo tiro in porta in cui loro segnano è una partita in cui penso che abbiamo giocato bene, abbiamo poi discusso nel post-partita su quello che magari potevamo fare, siamo stati forse un po' troppo bassi, potevamo alzarci prima comunque dettagli che poi condizionano le gare ma che fa bene comunque poter analizzare in serenità. Stasera bisogna semplicemente ringraziare i sette presenti tra cui comunque lo sottolineiamo c'era Maurizio in campo che sappiamo non gioca in questa categoria e oggi ha fatto comunque una partita più che dignitosa, è stato a livello della Serie A e ha dato una mano alla sua squadra quando per mille motivi, per la prima volta in non so neanche più quanti anni a che si fa la Lega non ci si riesce a presentare in otto al campo. Si sperava che non succeda mai, oggi è successo, ci sono state febbre, influenze, mal di schiena sono state una serie di problemi e alla fine non siamo riusciti ad arrivare ad essere otto, fa parte del gioco. Adesso ovviamente vincere, quant'è importante tornare a vincere, è fondamentale, è un campionato così corto abbiamo sempre detto che non ci si può consentire passi falsi, guardare le altre turni di riposo io so che se il Cotton Club inizia a vincere infila la striscia di vittorie e di prestazioni di cui questa squadra è capace, siamo sicuri che alla fine del regular season ci si guarda intorno e si vede che bisogna guardare gli altri dall'alto verso il basso ma questo è soltanto a condizione che noi si riprenda a fare quello che abbiamo fatto negli anni passati perché se ci si distrae come è successo con la Roma, se oggi ci si presenta in sette come è successo con la Lazio se con Goldberg si gioca con supponenza vincendo ma appunto facendo una prestazione non all'altezza di quello che possiamo fare poi è giusto che i risultati vadano in maniera altanelante.